Terza edizione del Treno delle Idee, l'iniziativa pensata e finanziata dalla Fira Finanziaria della Regione Abruzzo che offre l'opportunità a tanti giovani, meno giovani ma soprattutto agli imprenditori di presentare i progetti e puntare alla loro realizzazione. Si tratta di Startup Start Hope. Il prossimo 5 giugno il Treno Lupetto partirà alla volta dello SMAO di Bologna offrendo loro l'opportunità di stringere accordi e realizzare idee vincenti. Ci saranno investitori, ci saranno tutors, ci saranno fondi di investimento, ci saranno le Startup di successo quindi ci sarà la possibilità di colloquiare con loro e di capire come funziona il mondo delle Startup e se è una propria idea può diventare anche un'impresa. Tutto questo con questo laboratorio mobile che però parte da qui e arriva qui perché simbolicamente è un nodo, uno scambio dove noi andremo anche a realizzare nella stazione di Pescara il co-working cioè lo spazio condiviso dove installare le nostre Startup e dove dare la possibilità ai giovani abruzzesi di frequentare dei posti dove ci siano conoscenze, opportunità e formazione. Presente la Regione Abruzzo che in vista di questa opportunità imprenditoriale ed economica per il territorio annuncia già la volontà di protrarre impegno e risorse per dare forza al settore delle Startup. Startup Startup è uno strumento, è uno strumento che ha funzionato, lo stiamo rifinanziando anche utilizzando fondi residui della programmazione attuale 7.13. Daremo un certo quantitativo di risorse a fira la quale riaprirà il bando quindi comunichiamo ai giovani e anche meno giovani, alle donne abruzzesi che c'è la possibilità di nuovo, riaprendo il bando ma proprio nei prossimi giorni di poter presentare idee innovative naturalmente forti che vengono finanziate.